Nella mattinata del 16 novembre 2015 il corpo senza vita di Simona Simonini, disoccupata di 42 anni, veniva trovato dai carabinieri di Iseo steso sul pavimento della camera da letto in una pozza di sangue nell'abitazione di Zurane a Provaglio di Iseo. Sul corpo nessun segno di ferite da coltello o da arma da fuoco ma solo ecchimosi sul volto e poi altre macchie di sangue sulle scale nel pianerottolo, sei inequivocabili di un'aggressione. Dopo poche ore di indagini gli investigatori non avevano dubbi. Simona era morta ammazzata, probabilmente massacrata a calci e pugni da convivente Elio Cadei, artigiano 46enne, disoccupato originario di Monticelli Brusati. Fermato e interrogato in caserma a Iseo, l'uomo difeso dall'avvocato Gianfranco Abate aveva ammesso che insieme a Simona aveva assunto psicofarmaci e alcolici e che al mattino aveva trovato il corpo esanime e freddo della donna. L'avvocato difensore di Cadei aveva chiesto una consulenza psichiatrica cercando di dimostrare che Cadei era incapace di intendere di volere. Ora il documento è stato depositato come previsto prima del 2 febbraio al Tribunale di Brescia. I risultati della perizia indicano chiaramente che Elio Cadei, compagno della vittima e accusato di averla ridotta in fin di vita, era ed è tuttora capace di intendere di volere. Elio Cadei ha richiesto il rito abbreviato con la pesante accusa di aver massacrato di botte Simona. Secondo l'accusa, sottolineato anche dalla presenza di numerose bottiglie di alcol vuote intorno al letto, i due avrebbero trascorso la notte tra bevute e droga. Poi Elio si sarebbe scagliato contro Simona a calci e pugni. Nelle ore successive aveva detto ai militari che Simona avrebbe mostrato un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. Poi per lui la situazione indiziaria è precipitata e ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato a condizione di sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Ora i risultati ci sono. Elio Cadei quella sera era presente quando colpito Simona Simonini. La nuova udienza del processo si terrà il 22 febbraio e l'esito della perizia potrebbe portare il giudice a infliggere una condanna pesante per Elio Cadei.